Ha aperto i battenti l'edizione numero 42 della Fiera Campionaria di Sora. Nell'area fieristica di Via Barca San Domenico, fino al 4 ottobre, sono esposte le ultime novità in fatto di arredamento, edilizia, energie, meccanica, giardinaggio, agricoltura, movimento terra ed abbigliamento. Centinaia gli espositori dei settori energie rinnovabili, edilizia, macchine ed attrezzature per l'edilizia abitativa, arredamento per interni, prodotti e servizi per la casa, ma anche informatica, macchinari ed attrezzature, artigianato nazionale, agricoltura ed enogastronomia. L'edizione di quest'anno si caratterizza poi per la conferma del Salone del Buon Gusto, con esibizioni di show cooking ed interamente dedicate ai prodotti enogastronomici tipici. Si rinnova poi anche la collaborazione con l'SFCPT di Sora con la gara di arte Muraria. L'ingresso alla fiera è gratuito.